Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, continuiamo sempre la nostra avventura con i livelli bonus di Deadpool, sempre su Lego Super Hero, ecco qui abbiamo raccolto tutti i vari mattoncini, o almeno siamo arrivati a livello e quindi ci possiamo buttare nel livello bonus, vediamo un pochettino, siamo qui con Ant-Man, la porta si apre e possiamo entrare, lo vedevo un po' indeciso Ant-Man. Non c'è nessuno di caratteri in questo game già. Oh, buona scelta di colori. Oh, oh, lei non vuole giocare a ball. Se vuole giocare a ball, lo vedi, va bene. Ding, ding, round 1. Ok ragazzi, attenzione perché la vedo abbastanza. Yeah, nothing hurts the blob. Get a load of this guy. Attenzione perché la vedo abbastanza grosso, eh. Allora, iniziamo un po' a vedere se dobbiamo fare qualche cosa. Allora, di qua, che c'hai qua? No, ok, non vai bene, ok, ho capito che non vai bene, ma neanche lei penso che vada bene. Che fai Capitano America qua? Perché c'hai questo atteggiamento così? Lo vedo un po' aggressivo, vabbè dai, non fa niente, rompi un po' di cose e vediamo un po'. Ok, iniziamo subito, vai. Bravo Wolverine, che c'è qua? Che cavolo hai visto? Aspetta, ah, ok, un percorso per salire, bravo, bravo, bravo. Ce la fai? Ok. Quindi sicuramente qua dovremo trovare qualcosa e vediamo a cosa c'è. Si rompi, rompi, rompi. Ce la fai? Dobbiamo trovare quindi tre cose, anche se sento qualcosa che si muove. Ok, se lo dici tu va bene così. Che c'è qua dentro? Che c'è? Ce la fai a romperlo sta cosa? Vabbè tanto, non fa niente, anche perché abbiamo attivato anche il moltiplicatore. Non credo che sia questo quello che ci serviva, eh. Non ho capito perché siamo dovuti salire poi qua sopra, vabbè, lasciamo perdere. Ok, ah, ok, perché così abbiamo buttato tutto giù, così puoi montarlo, bravo. Io ti stavo quasi sottovalutando e invece inizia. Ma non è che non abbiamo rompito il ring, ma non credo proprio. Ma chi è? Eh, Rocky. Uh, guarda, c'è anche il disegno. Ok, purtroppo qua non ci possiamo infilare, ma io non credo che Gringy... No, infatti non c'entra. Ok. Rompiamo anche quest'altra parte che pensa che sia quello che ci serve. Sì, sì, avevo capito che ci serviva tutto. Aspetta un attimo. Perfetto. Appena rompiamo questo forse riusciamo a costruire anche quest'altra cosa. Ti serve ancora quest'altra cosa? No, di qua no. Vediamo un po' se tu riesci. Vai! Penso qua. Ok, bravo. Oh, ti serve anche quest'altro. Ok. Cosa dici tu? Dove glielo portiamo? Scusami. Ah, in mezzo al ring così! Bravissimo! Uh, guarda come mangia. Si è mangiato tutto. Ammazza che panza che c'hai! Ha fatto anche un rutto! Oh, chiavolo, ragazzi! Hai capito? E se come si è rilassato... Vabbè, dai! Aspetta che forse ho capito. Magari riusciamo a buttargli un po' di acqua addosso. Vediamo un po'. Vai, vai. Ma ce la fai a mirarlo? No, l'acqua ancora non funziona. Perfetto, ok. Ah, gli dovremmo dare, secondo me, questo. Come glielo diamo? Aspetta, eh. Ah, aspetta. Forse è probabile che... No, questo non riesce a spostarlo. Com'è che non riesce a spostarlo? Scusami. Se riuscissimo a spostare di questo... Aspetta un attimo. Perfetto. Vai. Rompi anche quest'altro. Che qua forse c'è qualcosa. Pazza che tapirulano, ragazzi. Sì, beccati tutto perché con il moltiplicatore che abbiamo... Abbiamo raccolto un pochettino di roba. Allora, quello che non capisco... Però aspetta un attimo che forse qua riusciamo con lei a spostarlo. Vai. 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 Ok, che lo rompiamo. Perfetto. Bravissimo. Hai visto? L'hai rutto. Vai, vai, Wolverine. Vai, collabora. Stanley, non ti preoccupare. Sicuramente un giorno ti vedremo a salvare. Che è sto cosa? Oh, ciavolo. Vai, vai, vai. Che facciamo? Glielo lanciamo sempre a lui? Mazzolo, facciamo mangiare come un... Come un dannato. Ok, quindi anche questo l'abbiamo risolto. Stai calmo. Vediamo se riusciamo a salvare anche Stanley. No. No, dovremmo cambiare personaggio. Ma purtroppo non lo possiamo cambiare. Ok, penso che a questo punto l'unica cosa che ci manca ancora è cercare. Forse se riesco a mirare qua dentro. Ok, bravo. L'abbiamo riempito. Vai bene così, vai. Adesso glielo puoi dare, vai. Un po' d'acqua penso che ne abbia bisogno. Bisogno. Non credo che riesca a bere così, però. Si sta mangiando l'acqua. Il venuto e ancora il campionato di un knockout è tu, il giocatore. Yeah, tu. Buongiorno a portare il ragazzo fuori dalla porta, però. Magari puoi prendere il rufo e lo scendere in un bianco. O magari solo prenderlo sulle strade. Non lo so. Guarda questo posto. È come se il ragazzo è un cazzo. Guarda questi libri comici. Oh cavolo, io lo adoro quando balla. Ok, vediamo com'è andato in alto la guardia. Che cosa? Ah, abbiamo sboccato fenice. E poi... Anche Blob. Ragazzi, Blob è bellissimo, eh. È enorme. Sono curioso di vederlo anche da vicino. Col moltiplicatore diciamo che siamo andati un pochettino meglio. Ma niente di trascendentale. 2 milioni e 800. Vabbè. Robetta, ragazzi. Però abbiamo fatto True Believer. E di questo siamo pienamente contenti. Altro mattoncini. Oh cavolo, 2 mattoncini. E questa è cosa buona. Ok ragazzi, anche questa parte della storia termina qui. Mi raccomando, vi invito sempre a mettere un bel pollice su. Un bel mi piace. Un bel commento. E spero come sempre a questo video. Non vi voglio sempre commentare se non vi mette il piacere. Ci vediamo in un prossimo video e... Bye bye.